buongiorno a tutti e ben ritrovati un saluto da Gabriele Bellelli benvenuti dicevo a questo nuovo webinar intitolato rendimento protezione con i certificati come al solito siamo in compagnia di di Leontech oggi avremo il piacere di avere con noi Anna Berto e Pietro Saccomandi a cui che saluto e a cui do subito la linea per i saluti e le presentazioni poi passiamo ai prodotti a Anna e Pietro buongiorno a tutti grazie per essere connessi con noi è sempre un piacere fare questi webinar questi incontri con Gabriele per chi non ci conoscesse perché sappiamo che c'è qualche nuovo iscritto questa sera ci ripresentiamo velocemente io sono Anna Berto buonasera a tutti ciao Gabriele diciamo in questa sera rappresentanza per Leontech emittente svizzero che opera sul mercato italiano da circa cinque anni siamo attivi con quotazioni di certificati di investimento sia su SEDEX che su Euro TLX attualmente abbiamo in quotazione circa 700 prodotti e diciamo che la maggior parte dei nostri certificati si articolano in emissioni di tipo autocall con cedola periodica piuttosto che capitali protetti con partecipazione bonus o inverse abbiamo anche da qualche tempo iniziato ad emettere certificati legati a fondi quindi c'è molta varietà sulla nostra offerta e stasera vi presenteremo con l'aiuto importante prezioso di Gabriele una selezione di certificati di investimento ricordo che Leontech è una società quotata quindi le informazioni sono reperibili sia dal nostro sito italiano che è certificati.leontech.com sia quello che vedete in sfondo in questo momento tra l'altro esattamente che anche se no da leontech.com che è il sito corporate dal quale si possono per chi fosse interessato scaricare comunque tutti i nostri risultati che vengono pubblicati e che appunto sono pubblici in quanto Leontech è una società quotata. Si può aggiungere qualcosa Pietro? Aggiungo magari due parole relativamente al mercato e prima di lasciare la parola a Gabriele quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane è un continuo diminuire della volatilità ricordo che è molto importante per quanto riguarda i certificati di investimento perché normalmente per i prodotti principali quali gli autocall quando la volatilità scende il prezzo dei sottostanti sale e questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sono chiaramente buone notizie per chi ha già in portafoglio dei prodotti in quanto avrà visto tutte le quotazioni salire è un pelo più difficile per noi che cerchiamo di venderli perché non appena rimettiamo un prodotto il prodotto ci va sopra la pari e chiaramente questo è un pelo difficile quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che è sempre più importante andare a selezionare quei prodotti dove magari prodotti che quotano sul mercato secondario dove magari abbiamo dei titoli che si sono già mossi tanto rispetto agli strike iniziali e dove per ogni titolo la propria volatilità va ad avere un impatto diverso e ci dà magari la possibilità di entrare in un prodotto comprandolo sempre sotto la pari avendo comunque delle caratteristiche che possono portare quel prodotto ad essere molto interessante e quindi ad essere selezionato e Gabriele immagino che sarà proprio quello che ci farà vedere dei prodotti che portano sul mercato secondario e che magari possono essere molto interessanti con le attuali condizioni di mercato. Quindi Gabriele ti lasciamo già la parola. Assolutamente grazie mille grazie Pietro grazie Anna assolutamente cercheremo di illustrare alcune situazioni interessanti come al solito sottolineo che né io né Pietro né Anna stiamo facendo consulenza personalizzata quello che noi facciamo sono video educational quindi fondamentalmente partiamo da una mia selezione di certificati e facciamo formazione quindi andiamo a spiegare quelle che sono le caratteristiche di questi prodotti pregi difetti eccetera poi ovviamente sarà ogni partecipante a dover approfondire l'argomento valutandolo in base a quella che è la propria pianificazione finanziaria quindi il proprio obiettivo finanziario il grado di rischio l'ottica temporale eventualmente facendosi aiutare da un consulente di fiducia. Ok dopo quindi questo disclaimer diciamo così questa premessa comunque doverosa direi di partire immediatamente. Allora quello che vedete in sfondo è il sito Leontec che ci accompagnerà fondamentalmente per tutto questo webinar a quest'oretta che staremo insieme. Qui trovate tutte le informazioni tra l'altro trovate anche la voce e contatti a cui poter andare a contattare Anna e Pietro per chiedere ogni informazione. Vedete qui trovate il numero zero due quindi un numero italiano, un numero milanese. Hanno da poco, non mi ricordo se l'avete detto, aperto la sede anche a Milano. Adesso in questo momento ancora non si può girare liberamente, non ci sono occasioni di contatto però è un'ottima notizia e qui sotto trovate, vedete l'indirizzo email per contattarli. Quindi se questa sera ci sono già tante domande noi cercheremo di rispondere a tutti oltre che parlare dei prodotti. Se avete ancora dei dubbi, non siamo magari riusciti a rispondere a tutte le domande potete tranquillamente contattare sia me che Anna e Pietro e qui trovate riferimenti. Ripeto vedete la voce contatti. Ok io andrei velocemente sul primo prodotto che ho selezionato, qui l'ho già individuato per velocizzare i tempi. Allora siamo di fronte a un experts certificates costruito su Eni e Intesa San Paolo. In questo caso cominciamo dalle basi. Allora stiamo parlando di un prodotto come tutti quelli che vedremo questa sera a capitale condizionatamente protetto, vuol dire che il capitale a scadenza è protetto a patto che non si verifichi l'evento barriera. Questo prodotto come anche gli altri che vedremo questa sera, quindi questa è una premessa che faccio adesso ma che in realtà vale anche per gli altri prodotti, vanno a soddisfare quello che è l'obiettivo finanziario entrata periodica. Questo vuol dire che tutti i prodotti che ho selezionato questa sera fondamentalmente pagano una cedola condizionata. Condizionata vuol dire che viene erogata se si verificano, come vedremo tra poco, determinate condizioni sui mercati. Quindi se ve lo anticipo in modo sintetico giusto per capirci, se in questo caso alla data di rilevazione ENI è intesa, saranno superiori a un determinato livello di prezzo chiamato barriera, allora il certificato pagherà la cedola. Al contrario invece se uno dei due titoli o anche entrambi, comunque almeno uno dei due titoli, sarà sotto il livello della barriera, il certificato non pagherà la cedola. Ecco perché si chiama cedola condizionata, perché pagata a condizione che si verifichi la condizione per il pagamento, cioè tutti i sottostanti sopra la barriera. Tutti i prodotti che vedremo questa sera tra l'altro anno ve lo anticipo la cedola con effetto memoria, che vuol dire che se in una data di rilevazione la cedola non dovesse essere pagata, non viene persa, viene messa come in un cassetto e può essere recuperata in una successiva data di rilevazione, qualora ovviamente si ripresentino nuovamente le condizioni per il pagamento della cedola. Quindi il certificato potrebbe non pagare due, tre, quattro cedole, perché per un certo periodo uno dei sottostanti ha una situazione di debolezza e quindi non si verifica la condizione per il pagamento, tutte quelle cedole non sono perse perché se il sottostante recupera e alla successiva data di rilevazione oppure a scadenza dovesse essere superiore alla barriera, ecco che in quel caso vengono recuperate tutte le cedole precedentemente non distribuite. La struttura classica è quella quindi del cash call, quindi di un prodotto che paga una cedola periodica. In questo caso lo vedremo fra un attimo, la cedola ha un ammontare dell'1,25% su base trimestrale, quindi significa fondamentalmente un potenziale rendimento annuo del 5%. Andando a scendere sul sito noi possiamo trovare tutte le caratteristiche di questo prodotto. Le prime le abbiamo già viste, vedete un express, quindi una tipologia cash call, se vogliamo un nome alternativo. I sottostanti sono Eni e Intesa, il certificato vedete è quotato sul SEDEX, quindi è quotato sul segmento di borsa italiana, c'è quindi un mercato regolamentato su cui è quotato, c'è un market maker, lo vediamo qui, a garantire la liquidità del prodotto, quindi a formulare in via continuativa una proposta in acquisto, una proposta in vendita, questa è la proposta in acquisto, questa è la proposta in vendita, denaro e lettera, qui sotto il numero 100 rappresenta il numero di pezzi che il market maker sta esponendo in acquisto e in vendita. Qui sotto, lo vediamo fra un secondo, troviamo tutta la documentazione, troviamo se volete le condizioni definitive, sono il famoso prospetto informativo che è il documento che fa fede a livello legale, in genere è particolarmente voluminoso da leggere, io consiglio sempre per chi ne offita di sporcarsi le mani leggendo anche il prospetto informativo, però per chi vuole diciamo così una sintesi c'è il KID e c'è il Termsheet, che sono due documenti, chiamiamoli bignami, sono due documenti sintetici che ci vanno a illustrare e diciamo così le caratteristiche salienti del prodotto, in questo caso abbiamo aperto il KID, vedete vi dice anche già dal nome, documento che contiene che cosa le informazioni chiave del prodotto, trovate ad esempio vedete il nome commerciale del prodotto, trovate il codice AISI, poi trovate a sotto, dopo lo vediamo più nel dettaglio, tutte le caratteristiche del nostro certificato, come ad esempio la valuta di negoziazione, il lotto minimo, un certificato, questa è una caratteristica che hanno tutti i certificati ed è un pregio l'assenza fondamentalmente di lotto minimo perché permette di diversificare anche un capitale, diciamo un portafoglio diciamo così costituito da un capitale ridotto, immaginate lo studente oppure chi appena ha finito di studiare, appena è entrato nel mondo del lavoro, che non ha grandi risparmi da parte, ecco che sicuramente avere un prodotto che non ha lotto minimo se non una quota, quindi se il certificato costa 100 euro possiamo comprare un multiplo di 100, se il certificato costa 1000, questo compreremo ovviamente multipli di 1000 però comunque sono cifre popolari, passatemi il termine, troviamo vedete la data di emissione, cioè quando il certificato è stato creato, troviamo la data di liquidazione fondamentalmente, la data di 2025 in questo caso in cui il certificato va a scadere e qui la data di rimborso, nel dettaglio abbiamo il prezzo di emissione, cioè il valore nominale 1000, abbiamo già detto che è quotato sul SEDEX, abbiamo già illustrato la cedola l'1 e 25, qui sotto vedete troviamo tutte le date in cui abbiamo la rilevazione e tutte le date in cui la cedola potrebbe essere pagata, vedete che abbiamo un maggio, agosto, novembre, quindi la cedola vedete che è trimestrale, qui c'è il livello di pagamento della cedola, vedete è un livello fondamentalmente distante da un 50% rispetto ai valori iniziali, qui trovate la data di pagamento, poi dopo entriamo nei dettagli dopo qui con il discorso autocall che non è attiva dalla prima cedola ma solo dalla, cioè non dalla prima data di rilevazione ma dalla seconda, questo è il kid, qui invece trovate il term sheet, è fondamentalmente lo stesso documento compilato in modo leggermente diverso con qualche dato in più, però vedete la caratteristica è sempre la stessa, c'è l'analisi dei sottostanti dove sono quotati, intesa e eni, qui sotto c'è il codice ISIN, qui si parla della composizione della nostra cedola, quindi sempre l'1 e 25, qui sotto troviamo tutte le altre date salienti in cui abbiamo la rilevazione, il livello della soglia barriera per il pagamento della cedola, qualcuno lo chiama soglia cedola e abbiamo anche l'ammontare, più sotto abbiamo anche i valori vedete dell'autocall, della trigger eccetera, ma su questi dati ci torniamo fra un secondo. A scendere che cosa troviamo? Troviamo altre caratteristiche salienti del dato, troviamo le prossime date di rimborso, vedete la scadenza, troviamo il anche qua sotto in realtà eccoci qua i due titoli che compongono il paniera, vedete troviamo il prezzo di mercato attuale, troviamo lo strike cioè il fixing iniziale, troviamo il livello della barriera e possiamo anche identificare che cosa? Beh la distanza dalla barriera, vedete questa giornata quasi in tempo reale, in questo caso entrambi i sottostanti distano più del 50% quindi una barriera discreta quindi attiva sulla scadenza, in questo caso possiamo definirla anche profonda, in più vedete che stanno avendo una performance positiva anche rispetto a che cosa? Lo strike iniziale, cosa voglio dire? Che la quotazione attuale ad esempio prendiamo Eni e 1034 è superiore a 942 che lo strike, quindi Eni e sopra strike non solo, anche il titolo intesa vedete 228 come quotazione di mercato a un 2 indici come livello di strike, qui sotto troviamo la cedola annualizzata, vedete piasta potenziale anno un 5% che abbiamo la prossima data di rilevazione, qui sotto troviamo tutte le altre caratteristiche che abbiamo già vedete trovato nel kid e nel documento quindi le prossime date di rilevazione e così facendo, qui sotto troviamo anche il grafico del nostro certificato, volendo possiamo andarlo anche a completare con l'andamento dei sottostanti, possiamo poi giocare a un mese, lo possiamo visualizzare a tre mesi, possiamo visualizzare l'andamento annualizzato eccetera, possiamo andare a giostrarlo come meglio crediamo. Tornando sul discorso, dicevamo la barriera è discreta quindi attiva sulla scadenza, i livelli della barriera li troviamo in eccoci qua in questa colonna, vedete il livello della barriera. In questo momento che cosa possiamo notare? Beh l'abbiamo già detto ripetiamolo, entrambi i sottostanti vedete quotano a un livello superiore allo strike, questo vuol dire che se oggi fosse la data di rilevazione, se oggi fosse attiva l'opzione auto call, questo certificato che cosa farebbe? rimborserebbe in anticipo, quindi rimborserebbe la protezione del capitale, rimborserebbe il valore nominale che in questo caso è mille, vedete lo troviamo qui, eccoci qua, prezzo di emissione, valore nominale mille e pagherebbe la cedola del 1 e 25 per cento. Al momento vedete quota praticamente alla pari, quota eh mille e due, ma siamo siamo a cavallo, vedete, di mille e se dovesse pagare il rimborso rimborserebbe mille e dodici virgola cinquanta, no? Quindi ci sarebbe un margine anche se la col fosse attiva oggi fondamentalmente. E quali altre caratteristiche? Allora la cedola abbiamo detto che è del 1 e 25, la possiamo andare a prendere anche qui sopra, prendiamo magari il term sheet, abbiamo detto che la cedola è del, lo andiamo a sempre, eccola qua, dell'uno e eh venticinque eh per cento, è una cedola che viene pagata su base trimestrale, abbiamo detto. Attenzione a una serie di aspetti, allora la prima data di rilevazione è il ventiquattro maggio, forse si vedeva meglio di qua, eccoci qua, la prima data di rilevazione, vedete, è il ventiquattro maggio di ehm, quindi quest'anno, quindi da qui a a un mesetto fondamentalmente, in questa data vedete non è segnata l'opzione autocall, vuol dire che in occasione di questa prima data non è attiva l'opzione autocall, l'opzione autocall è quell'opzione che fa sì che il certificato venga rimborsato in anticipo rispetto alla naturale scadenza. Si chiama opzione autocall perché è automatica, non è come nelle obbligazioni che è una facoltà dell'emittente esercitarla o meno, questa è auto, vuol dire che automaticamente nel momento in cui si verifica la condizione, indipendentemente dalla volontà dell'emittente, il certificato viene richiamato in anticipo e rimborsato, rimborsato ovviamente al valore nominale perché mantiene la protezione e paga in questo caso l'ultima eh cedola. Eh in occasione quindi di questa prima data di rilevazione un investitore si trova fondamentalmente che possiede ovviamente il certificato in portafoglio, immaginate quindi un ehm un investitore che oggi eh anzi domani perché i mercati adesso sono chiusi che domani mattina dovesse comprare a mille questo certificato. Che cosa succede? Se lo tiene ininterrottamente fino al ventiquattro maggio duemila e ventuno dando per scontato quindi facciamo una simulazione che i sottostanti da qui al ventiquattro maggio non si muovono quindi che questa rimanga la quotazione di mercato. Che cosa succede? Succede che non essendo attiva l'opzione autocolo perso il pezzo dove? Eccoci qua dicevo ehm non essendo attiva l'opzione autocolo si troverà di fronte a due scenari. Primo scenario positivo l'abbiamo visto tutti i sottostanti sono superiori alla barriera. In questo caso il certificato paga la cedola del lune venticinque si va alla data di rilevazione successiva che sarà vedeta ad agosto duemila e ventuno. Secondo scenario quello negativo il almeno uno dei due sottostanti è inferiore alla barriera. In questo caso il certificato non paga la cedola e si va alla data di rilevazione successiva. Però attenzione in questo caso è vero che la cedola non viene pagata ma godendo dell'effetto memoria la cedola non è persa dicevamo viene messa in un cassetto e quindi può essere potenzialmente recuperata in seguito. Attenzione perché invece vedete da agosto diventa attiva che cosa? L'opzione autocall con il cento per cento dello strike e quindi la trigger è il cento per cento dello strike cioè del prezzo iniziale che avevano i sottostanti nei momenti in cui il certificato è stato creato. Quindi significa che dalla seconda data di rilevazione noi avremo tre scenari potenziali. Il primo scenario è tutti e due i sottostanti quotano a un livello uguale o superiore rispetto allo strike. A questo punto scatta l'opzione autocall, il certificato mantiene la protezione, rimborsa in anticipo rispetto alla naturale scadenza quindi rimborsa a mille più paga la cedola dell'1,25 e dal giorno successivo il certificato non esiste più. Secondo scenario, quello in realtà più propizio per il risparmiatore, almeno uno dei sottostanti è inferiore allo strike però contemporaneamente entrambi sono superiori alla barriera. A questo punto non scatta l'opzione autocall, il certificato resta in vita, paga la cedola dell'1,25 e si va alla data di rilevazione successivo. Dicevo che questo è lo scenario migliore per il risparmiatore perché? Perché incassa la cedola, il certificato resta in vita e quindi diciamo così si mantiene la possibilità di incassare altre cedole su un prodotto che si è selezionato e che quindi si ritiene che sia efficiente per la propria pianificazione finanziaria. Terzo scenario, almeno uno dei sottostanti è inferiore alla barriera. In questo caso non si percepisce la cedola, ovviamente non scatta l'opzione autocall, il certificato resta quotato, dicevamo non viene pagata la cedola che però godendo dell'effetto memoria può essere recuperata in seguito. Questo scenario che abbiamo, questi tre scenari in realtà, questa situazione quindi di possibile autocall vedete la andiamo a ritrovare in tutte le successive date di rilevazione, questo vuol dire che se il certificato continua a rimanere in vita a ogni data di rilevazione troveremo questi tre scenari. attenzione, solo a un dettaglio, vedete che periodicamente la trigger, cioè il livello a cui scatta l'opzione autocall diminuisce, vedete che in occasione delle prime date la cedola, la trigger scusate è il cento per cento dello strike e quindi coincide esattamente con lo strike. Da, vedete, maggio 2021 la trigger diventa il 95 per cento dello strike. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo strike iniziale sia del titolo eni che del titolo intesa diminuisce del 5 per cento, quindi il 95 per cento dello strike iniziale rappresenta il livello a cui il certificato viene richiamato in anticipo. Questo 95 per cento resta intatto, vedete, fino al maggio dell'anno successivo, cioè il maggio 2023, dove la trigger diventa il 90 per cento, quindi in questo caso diminuisce un 10 per cento rispetto allo strike iniziale e via a scendere, vedete, a ogni annata fondamentalmente a maggio lo strike, vedete, diminuisce. Era un cento per cento, è diventato prima un 95, poi un 90, poi un 85 e in ultimo 80. Se ovviamente il fatto che la trigger diminuisce fa sì che sia più probabile che il certificato possa rimborsare in anticipo, perché diminuendo di fatto il livello di autocall rende questo più probabile come evento. Se il certificato, dicevo, non viene mai rimborsato in anticipo, quindi non scatta mai l'opzione autocall, si va alla data di scadenza, vedete, siamo nel 2025, nell'agosto del 2025 e in questo caso gli scenari tornano due, perché sparisce di fatto l'autocall, perché siamo a scadenza, quindi non ha senso parlare di autocall e quindi fondamentalmente i nostri scenari saranno collegati alla barriera. Primo scenario, entrambi i sottostanti sono superiori alla barriera, in questo caso il certificato mantiene la protezione a scadenza, rimborsa mille, paga l'ultima cedola del 1,25, secondo scenario, almeno uno dei sottostanti è inferiore alla barriera. In questo caso, essendo un certificato worst off, worst off vuol dire che non è composto da un singolo titolo, ma da un paniere, in questo caso caso composto da due titoli, ecco che allora si prende a riferimento per calcolare il prezzo di rimborso in caso di evento barriera, ricordo, la performance del titolo peggiore dei due, quindi si prende la performance di Eni e la performance di Intesa San Paolo calcolata nel periodo di vita del certificato. La performance peggiore dei due sottostanti viene presa a riferimento, quindi immaginiamo che dei due sottostanti, quindi immaginiamo che si verifichi, speriamo di no, l'evento barriera, immaginiamo che il titolo worst off, quindi quello con la performance peggiore sia Eni, si prende il prezzo finale di Eni, lo si divide per lo strike iniziale, questo valore lo si moltiplica per 100 e attraverso questa formula si calcola il prezzo di rimborso a scadenza. Queste sono le caratteristiche tecniche del primo prodotto che vi ho illustrato. Questo secondo me è un prodotto interessante perché fondamentalmente vedete quota alla pari, quota fondamentalmente a mille che è il valore nominale, investe su due big del mercato italiano, due titoli importanti del nostro listino, due titoli che non sono in odore di aumento di capitale, ovviamente la scadenza del certificato è lontana, vogliamo lontanucce, se vogliamo un 2025 questo potrebbe essere l'unico dato da valutare con attenzione, cioè tutti gli altri dati sono da valutare con attenzione, questo in particolare perché non è detto che sia diciamo così compatibile con l'ottica temporale di ogni investitore, quindi con la pianificazione di ogni investitore, però in linea generale quindi volevo dire che oggi è neintesa, non hanno non solo in odore di aumento di capitale però da qui al 2025 ovviamente le cose potrebbero cambiare, mancano quattro anni alla scadenza per dare un'idea, però in ogni caso sono due big importanti in questo momento storico del nostro listino, entrambi i sottostanti abbiamo detto quotano sopra lo strike e ovviamente di conseguenza anche sopra la barriera, la barriera è discreta, è profonda, vedete distante un 50 e passa per cento per cui è un certificato secondo me che può essere valutato per il proprio portafoglio fondamentalmente, quindi è un certificato che secondo me è assolutamente interessante. non so Anna e Pietro se volete aggiungere qualcosa, se volete fare qualche specifica non vi sentiamo forse c'è un problema d'audio ciao Gabriele scusaci ecco ci siamo abbiamo perso sono andati via un l'ultimo minuto non abbiamo sentito niente ma ora ci siamo ok perfetto dicevo dovete aggiungere qualcosa volete fare qualche integrazione qualche correzione sono sbagliato qualche passaggio non credo ma non si sa mai no mi sembra che tu l'abbia descritto in modo estremamente dettagliato e corretto facendo vedere bene insomma tutti i dettagli sono scaricabili dal nostro sito quindi mi sembra estremamente chiaro grazie perfetto allora ci sono varie domande te ne faccio subito una franco chiede franco mi sembra che sono senza occhiali scusate eh sì franco chiede eh se ehm cioè vi dice fondamentalmente eh generalmente mettete a mille è possibile magari in futuro avere emissioni anche a cento? Allora abbiamo qualche emissione a cento ma sono tracker che li avevamo visti insieme ti ricordi Gabriele? Esatto. Quindi ascoltiamo sempre gli input che arrivano dagli investitori per quanto riguarda certificati di tipologia auto call come questo che abbiamo visto assieme adesso al momento non ne abbiamo in base cento ma eh non vuol dire che in futuro non ne emetteremo quindi comunque eh se li emetteremo sarete chiaramente informati e saranno comunque tutti presenti sulla nostra pagina per cui al momento non ne abbiamo di questo tipo in base cento ma magari in futuro potremmo prevedere qualche emissione di questo tipo. Ok perfetto allora eh c'è una domanda lunga di Fabio che chiede se ho ben capito il BDASC di Leontech è basato esclusivamente sul loro modello di valorizzazione che quindi tiene conto di volatilità scadenza tassi eccetera eccetera di fatto quindi è svincolato dalla domanda offerta del mercato questa è la premessa. Chiedo questo perché mi è capitato a volte di vedere dei prezzi che non sono in linea con non ho capito che non hanno molto senso per l'acquirente nel senso che il prezzo di acquisto sarebbe superiore ai probabili flussi di rendimento cioè cedule più rimborso. Cioè lui in pratica dice a volte trova dei certificati che potrebbero rimborsare che rimborserebbero non so cento due ma in realtà il certificato quota cento due virgola trenta. Vuoi spiegare tu questo dato? Lo spiego io? Allora ti direi assolutamente i prezzi dei certificati non dipendono dalla domanda dell'offerta ma dipendono dai parametri di ogni certificato quindi che ci siano centinaia di investitori che sono in coda per comprare un prodotto che non ce ne sia nessuno il prezzo sarà assolutamente lo stesso. Quello che magari può succedere su ebook è che noi ovviamente siamo sempre presenti con il nostro bid offer a meno che non terminiamo la size quindi magari possiamo rimanere qualche minuto fuori dal mercato e quindi non avere nessun prezzo inserito. Quello che può succedere però chiaramente è che ci siano delle altre persone che si inseriscono sul book e vanno ad alterare quello che è il bid offer che viene visualizzato molto spesso succede che ci sono dei valori che magari non sono i nostri ma sono di altri investitori che ci sono investiti sul book. Ok no secondo me lui diceva un altro aspetto lui diceva il dato è questo lui dice io vedo che sta arrivando la data di rilevazione vedo che entrambi i sottostanti sono superiori allo strike quindi vedo quasi sicuro tra virgolette che quel certificato rimborsi. Se il certificato quota 100 facciamo e ha una cedola del 2 e mezzo diceva io mi aspetto un prezzo massimo da parte del market maker del 2 e mezzo invece magari lui espone 103. Il motivo fondamentalmente qual è? Perché quello 0,5 in più? Perché non c'è la certezza che scatti davvero l'autocall per cui l'opzione per l'eventuale cedola successiva nel caso non scatti l'opzione autocall ha comunque un prezzo ha comunque un valore e quindi quello viene contemplato al livello del della quotazione quindi questo è un dato frequente che non riguarda tra l'altro solo le ontech ma tutti gli emittenti lo praticano perché di fatto è così la struttura in anella già la possibile opzione successiva per il pagamento della cedola qualora non si verificasse l'opzione e autocall fondamentalmente credo che la domanda fosse questa se l'ho capita bene guardavo ce ne sono veramente tantissime di domande allora ricordiamo un dato che secondo me è molto utile sempre perché abbiamo molti amici nuovi ricordiamo che i certificati sono efficienti fiscalmente questo vuol dire che le plusvalenze di prezzo cioè io compro il certificato a 1000 e lo rivendo a 1100 numeri a caso giusto per dare un'idea quelle 100 monetine di plusvalenza cioè di guadagno sono considerate reddito diverso e quindi possono essere utilizzate per recuperare minusvalenze non solo anche le cedole incassate in questo caso abbiamo l'esempio dell'1,25% dicevo anche le cedole costituiscono reddito diverso e possono essere utilizzate per recuperare minusvalenze pergresse le uniche cedole che non possono essere utilizzate come reddito diverso perché sono contabilizzate come reddito di capitale sono le cedole incondizionate dei certificati capitale protetto in questo caso il legislatore le considera reddito di capitale quindi non utilizzabili per recuperare i minus in tutti gli altri casi plusvalenza di prezzo e cedole sono invece reddito diverso. Fabio sempre chiede se in caso di aumento di capitale gli strike e le barriere vengono ricalcolati assolutamente sì nel momento in cui scatta l'aumento di capitale ci sono dei fattori di rettifica e quindi di conseguenza sia il valore dello strike e a cascata anche poi il valore della barriera o delle trigger vengono ovviamente ricalcolati in funzione di quei parametri assolutamente sì. Corretto e poi viene appunto modificata aggiustata tutta la documentazione viene fatta via una corporate action che viene processata e una notifica che viene anche caricata sulla pagina prodotto sì. Esatto altra domanda interessante che salta fuori in ogni webinar questo conferma che abbiamo molti amici nuovi chiedono quanti giorni prima della record date io devo acquistare un certificato Leontec per poter godere della cedera per incassare la cedera quanti giorni prima della record date? Non so se volete ricordare la regola. Due giorni prima della record date. Due giorni lavorativi. Esattamente si parla sempre di giorni lavorativi due giorni lavorativi prima della record date se chiaramente si verificano le condizioni per il pagamento della cedola l'investitore che ha acquistato il certificato almeno due giorni prima della record date ha diritto a quindi incassare la cedola. perfetto. Riccardo mi chiede se il settore del sottostante influisce sul costo finale del certificato? Il settore? Il settore. Allora chiaramente quando noi andiamo a costruire un certificato autocall se utilizziamo diversi titoli stiamo vendendo correlazione questo che cosa significa? Significa che più i titoli sono decorrelati tra di loro e quindi magari in settori differenti più il coupon a parità delle altre condizioni potrà essere elevato. Questo magari è l'effetto che può avere il settore di un determinato titolo cioè la correlazione tra i vari titoli all'interno del prodotto. Ora quello che noi cerchiamo di fare è di avere dei prodotti tematici quindi andiamo sempre a prendere magari dei titoli che andiamo spesso a prendere titoli che sono all'interno dello stesso settore in modo tale da dare all'investitore la possibilità di fare una scommessa un pochino più direzionale quindi magari titoli assicurativi, titoli del settore auto, titoli farmaceutici perché prendere titoli completamente diversi sì è vero la cedola è più alta però diventa un pochino più difficile avere una view su quel prodotto poi chiaramente dipende da quello che vuole fare il cliente quindi ci sono tanti certificati diversi con tante caratteristiche diverse. Spero comunque abbia risposto alla domanda. Sì direi proprio di sì. Fabio che non è lo stesso di prima è un altro Fabio e mi chiede se cioè ci chiede in realtà e se a scadenza la soglia cedola è il 50 per cento eh la risposta è sì in questo caso assolutamente sì poi Christian mi chiede di rispiegare come funziona l'autocall nel caso della trigger. Allora l'autocall è un'opzione che scatta nel dov'è qua era questo sì e dicevo l'autocall è un'opzione automatica che scatta nel momento in cui in una data di rilevazione come ad esempio il 23 agosto del 2021 è attiva permette di richiamare il certificato in anticipo rispetto alla sua scadenza naturale. Quando si verifica questa condizione? Si verifica quando entrambi i sottostanti quindi quando in questo caso e Eni dove li ho persi scusate eccoci qua Eni e Intesa sono ad una quotazione superiore a che cosa? Allo strike iniziale. Quindi in occasione della data di rilevazione in cui attiva l'opzione autocall che cosa si fa? Si va a fare un confronto tra la quotazione di mercato e il livello dello strike. Immaginiamo quindi facciamo il caso concreto che abbiamo eccoci qua alla seconda data vedete quindi ad agosto strike trigger scusate 100% dello strike iniziale vuol dire che l'autocall scatta se il livello a cui certificato viene richiamato è il 100% del valore iniziale dello strike. 100% dello strike vuol dire che è lo stesso valore quindi sarà 9,42 e 4 per Eni 2,11 e 2 per Intesa. Quindi se alla data di rilevazione di agosto il prezzo di mercato rimanesse lo stesso quindi facciamo i conti facciamo finta che oggi è il 23 agosto del 2021 cosa succede? Succede che vedete Eni quota a un livello superiore allo strike quindi primo titolo soddisfa la condizione è superiore allo strike secondo titolo quota 2,28 che è superiore a 2,11 quindi anche il secondo titolo è superiore allo strike in questo caso quindi il certificato rimborserebbe in anticipo rimborserebbe che cosa 1000 più pagherebbe la cedola del 1,25. In occasione di una data successiva prendiamo ad esempio il 23 maggio del 2022 quando la trigger vedete diventa il 95% il meccanismo è sempre lo stesso cioè si va a prendere il prezzo di mercato e lo si va a confrontare con la trigger con la condizione però attenzione che la trigger non è più il 100% di questo numero di 9,42 ma è diventato il 95% di questa quotazione quindi si prende 4,92 e 4 si diminuisce del 5% potete fare 4,92,4 per 0,95 e ottenete un nuovo prezzo quel prezzo è il riferimento quindi sarà una quotazione più bassa adesso lo possiamo fare anche al volo a memoria cioè con la calcolatrice 9,42 e 4 per 0,95 sbagliato scusate schiacciare da 8,95 quindi in quell'occasione se la quotazione di Eni sarà superiore a 8,95 quella condizione sarà verificata questo procedimento si applica anche al titolo intesa eccetera dicevo che la trigger decrescente favorisce il richiamo del certificato perché ovviamente diminuisce il prezzo a cui il certificato viene richiamato quindi a ogni data di rilevazione cala un 5% in questo caso e quindi man mano che si abbassano i livelli di conseguenza aumentano le probabilità che il certificato possa rimborsare. Ok ci sono un'altra marea di domande ma direi un attimo di andare avanti perché abbiamo ancora 5-6 prodotti da illustrare come al solito abbiamo sempre tante tematiche allora volete aggiungere qualcosa Anna Pietro o andiamo avanti? Ma direi che possiamo magari andare a vedere gli altri certificati visto che appunto come detto tu ne abbiamo un po' e per non dilungarci troppo però siamo sempre pronti siamo qui anche per rispondere alle domande quindi assolutamente continuate a porle se poi non riusciamo a rispondere a tutto potete scrivere sempre a Gabriele o anche a noi a info italy chiocciolaleontech.com nel caso appunto non avessimo il tempo per rispondere a tutte le domande. Esattamente ricordo che per contattare le domande che trovate contattaci qui per contattare me il mio indirizzo è bellelli.biz il sito g.bellelli.biz il sito oppure mi andate su facebook cercate Gabriele Bellelli trovate anche il mio gruppo chiuso si chiama Gabriele Bellelli trading investing potete chiedere l'iscrizione e vi accetto molto volentieri interagisco direttamente quindi potete anche chiedere informazioni chiarimenti confronti eccetera e rispondo molto molto volentieri dicevo secondo certificato di oggi è quello che vedete in sfondo è un express costruito su tre titoli generali assicurazioni axa e suisse re è un prodotto sempre capitale condizionatamente protetto è un prodotto sempre che paga una cedra quindi soddisfa l'entrata periodica dell'investitore come obiettivo finanziario la struttura è sempre quella del cash college quindi pagamento una cedola costruito vedete in questo caso su tre big del del settore assicurativo e la cedola e lo vedremo fra un attimo trimestrale a monta anche in questo caso all'1 e 25 per cento e anche in questo caso abbiamo un 5 per cento potenziale annuo il 5 per cento potenziale anno salta fuori da 1 e 25 moltiplicato per 4 ovviamente che sono le date di rilevazione quindi è un potenziale di eh il certificato vedete è quotato sul sedex di borsa italiana quindi è liquido è quotato sul mercato regolamentato eccetera anche qui vedete la presenza del market maker in denaro lettera con le size adesso siamo a mercati chiusi ma questi sono i dati che trovate aggiornati durante la seduta il certificato contiene l'opzione quanto perché non tutti i sottostanti sono quotati in euro e quindi l'opzione quanto permette di anestetizzare il rischio cambio proprio un meccanismo che anestetizza il rischio cambio la barriera di questo prodotto è una barriera discreta quindi attiva solo a scadenza la scadenza è posta nel duemila e ventise vado a memoria direi di non sbagliarmi esattamente vedete eh scade nel duemila e ventise quindi ha una durata di eh cinque anni quindi verificate l'ottica temporale secondora il prezzo di emissione è eh mille la barriera è posta a un sessanta per cento dello strike iniziale se andiamo a vedere qua sotto ecco che troviamo noi i nostri tre eh titoli troviamo la quotazione di eh mercato troviamo il fixing iniziale che è lo strike eh troviamo il livello della barriera e che cosa possiamo notare beh possiamo notare che vedete sono tutti e tre a quotare sopra lo strike vedete generali quota diciassette rotti lo strike è quattordici e quarantotto AXA quota ventitré e e cinquanta lo strike è venti virgola diciannove mentre qui abbiamo in franchi ma il concetto è lo stesso novanta virgola trentasei come quotazione attuale con un ottanta quattro e quarantotto di strike quindi vedete sono tutti superiori allo strike e ovviamente tutti superiori alla barriera barriera che dicevo è discreta quindi attiva sulla scadenza il certificato worst off è in questo momento Swiss Re quindi è il dei tre titoli è quello che sta registrando la performance peggiore da quando il certificato è stato quotato ma vedete che ha una distanza assolutamente importante per il momento del quaranta tre quasi quaranta quattro per cento dalla barriera quindi è sicuramente un aspetto eh interessante è un certificato interessante perché possiamo anche andare a prendere la documentazione che magari ci aiuta prendiamo il kid che è il primo che mi è capitato ad occhio eccoci qui andandolo a scorrere ovviamente troviamo tutte le caratteristiche che ci servono e possiamo andare aspetta che magari guardo qui volevo trovare lo schemino con le date ok eccoci qua con le date allora eh come si legge questo schema allora la prima data eh di rilevazione sarà aprile eh di quest'anno quindi aprile del duemila e eh ventuno eh ma la cedola è già stata pagata quindi la prima eh cedola che voi vedete è è già stata eh verrà pagata il diciannove fondamentalmente ma la prima cedola è già da considerarsi pagata quindi se uno dovesse comprare il certificato eh domani non avrebbe la la possibilità di incassarla quindi attenzione si va direttamente a che cosa la seconda data di rilevazione che è quella del luglio del duemila e eh ventuno quindi si va a eh a distanza di tre mesi perché la eh la frequenza no con cui la cedola eh viene erogata e eh trimestrale eh attenzione però perché a partire dalla seconda data la struttura è quella che abbiamo visto prima quindi a partire dalla seconda data che cosa è attiva l'opzione autocall per cui eh in quell'occasione avremo i tre scenari no? Entrambi i sottostanti sopra lo strike oppure avremo lo il secondo scenario eh almeno uno dei sottostanti inferiore allo strike ma tutti e due sopra la barriera si paga la cedola e il certificato resta in vita oppure almeno uno dei due sottostanti inferiore alla barriera non si percepisce la cedola si va alla data di rilevazione successiva la cedola lo ripeto è sempre con effetto memoria quindi non è persa se in un'occasione non dovesse essere pagata perché può essere recuperata in seguito anche in questo caso abbiamo una trigger eh decrescente vedete in occasione della prima data è già passata non era attiva in occasione vedete da luglio eh di quest'anno quindi da qui a un paio di mesi da qui a quattro mesi fondamentalmente la trigger è attiva quindi vuol dire che può essere attiva l'opzione autocall le eh vedete le 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 da derivazione di luglio eh ottobre e gennaio hanno un cento per cento di trigger poi anche in questo caso la trigger diminuisce non mi dilungo perché il meccanismo l'abbiamo spiegato ampiamente prima ma il concetto è questo la data di scadenza del prodotto vedete è nel duemila e ventisei a gennaio a gennaio quindi si va a dovesse non essere vari richiamato ovviamente il certificato si va alla naturale scadenza in questo caso gli scenari sono due si prende il livello della barriera se sono tutti due sopra o uguali come in quotazione il certificato mantiene la protezione rimborsa mille e paga l'ultima cedra altrimenti non si applica la formula che dicevamo prima prezzo finale diviso prezzo iniziale cioè strike moltiplicato per 100 anche questo secondo me è un certificato assolutamente interessante ne abbiamo già parlato in passato non mi ricordo se di questo certificato di certificati simili però fondamentalmente il settore assicurativo è un settore che apprezzo perché ha una certa stabilità sia di quotazioni che di business per cui i certificati che hanno come sottostanti i titoli assicurativi in genere tendono a interessarmi questo vedete ha delle caratteristiche per fare bene perché nonostante abbia tutti i sottostanti che quotano sopra lo strike iniziale quindi potenzialmente potrebbe essere richiamati in anticipo già dalla successiva dalla prossima data di rilevazione che è luglio vedete quota sotto la pari quindi immaginate che questa situazione di prezzo resti cristallizzata fino alla prossima data di rilevazione abbiamo detto a luglio a luglio quindi tutti e tre i sottostanti sono sopra la pari che cosa succede? succede questo certificato rimborsa mille quindi chi lo compra a 985 facciamo arrotondiamo incassa 15 monetine di guadagno dalla plusvalenza di prezzo e ne incassa altre 12 e mezzo dalla cedola dove è la cedola? ho perso il pezzo comunque la cedola è dell'1 e 25 va da memoria e quindi in quel caso prende altre 12,5 monetine dal dato quindi in questo caso chi dovesse acquistare questo certificato anche in caso di opzione autocall non ha problemi perché comunque c'è margine di guadagno quindi secondo me è un certificato assolutamente interessante da valutare per il portafoglio non so Anna Pietro se volete aggiungere qualcosa beh il certificato ha un meccanismo di fatto uguale a quello che abbiamo visto in precedenza chiaramente con sottostanti diversi cedole diverse però diciamo che il meccanismo autocall e il meccanismo delle cedole condizionate mi sembra che tu l'abbia spiegato molto bene per cui io non aggiungerei altro dal lato mio perfetto ok allora andiamo velocemente a guardare il terzo certificato questo è sempre un express la struttura è esattamente identica a quella che abbiamo appena descritto quindi è un prodotto a capitale condizionatamente protetto paga una cedola periodica in questo caso le caratteristiche quali sono beh fondamentalmente ne andrei a sottolinearne due il primo sono i titoli su cui questo certificato va a lavorare che sono diciamo così tre big del settore online abbiamo Alibaba e Amazon che non credo abbiano bisogno di presentazioni abbiamo il terzo che è Shopify magari qualcuno lo conosce comunque sintetizzando al massimo è una società che commercializza una piattaforma che integra insieme l'e-commerce con i pagamenti online con anche delle funzioni di marketing quindi si tratta sempre di e-commerce collegato sempre quindi ad Amazon e Alibaba quindi un settore diciamo così un certificato costruito sul settore diciamo così dell'e-commerce l'ho selezionato per quale motivo? Perché in questo periodo e in questi giorni in realtà si parla molto di Alibaba Alibaba è un titolo che negli ultimi mesi ha corretto è passato da area 310 come quotazione all'attuale 238 dollari di ieri adesso in questo momento non so quanto quota ma più o meno sarà su quei livelli quindi ha avuto una flessione dei prezzi ha avuto qualche frizione diciamo così per usare un eufemismo con il governo cinese non Alibaba come società ma il suo proprietario recenti nei giorni scorsi è uscita la notizia di una multa che è stata attribuita alla società quindi un titolo molto diciamo così discusso sui vari social forum da parte degli investitori quindi ho selezionato questo certificato apposta perché lo contempla giusto una cosa che secondo me può essere sempre utile perché dicevo abbiamo degli amici nuovi che ci seguono per certi se vogliamo cercare un certificato che investe in uno specifico sottostante in questo caso ad esempio Alibaba ma può essere qualsiasi titolo facciamo il caso su Alibaba ma ripeto il concetto vale uguale vado sul sito di Leontech io qui nella voce vedete ricerca questa è il diciamo così lo spazio dedicato alla ricerca vado a inserire che cosa vedete posso inserire nome sottostante scadenza volendo se trovo anche il codice ISI mettiamo il nome il nome scusate mettiamo il sottostante e quindi in questo caso mettiamo Alibaba premiamo invio e in automatico vedete ci compaiono tutti i certificati di Leontech che in questo momento contengono Alibaba al suo interno vedete che sono nove li troviamo tutti qui qui troviamo il codice ISI troviamo il come si chiama il nome commerciale qui troviamo tutti i sottostanti vedete in questo caso sono tutti dei worst off cioè vuol dire che in questo momento non c'è un certificato con solo sottostante Alibaba ma sono tutti dei dei panieri abbiamo vedete Alibaba Amazon eBay eh in eh li possiamo anche ordinare così così li vediamo tutti ecco vedete ci sono uno due tre uguali come sottostanti ma non come caratteristiche del prodotto perché avranno strike diversi eccetera quest'altro vedete con Zalando eccetera questo è quello che abbiamo appena scritto lo andiamo a vedere nel dettaglio e via gli altri hanno ovviamente quotazioni diverse hanno ovviamente eh date eh di emissione poi di conseguenza di scadenze diverse se volete andare a cercare quelli che magari quotano meno ecco che potete andare a ordinare per lettera e in automatico trovate tutte le caratteristiche del ehm del certificato quello che ho selezionato io non mi ricordo quale di questi e il 521 eh è questo qua fondamentalmente l'ho selezionato perché ovviamente ha dei multipli migliori rispetto agli altri perlomeno che io apprezzo maggiormente quindi se vi serve questa funzione è importante ha un altro dato giusto perché siamo in tema di ricerca eh che è una funzione che a me piace molto quando si arriva no sul sul sito eh che cosa si può fare beh eh l'investitore prudente no il cosiddetto buon padre di famiglia è che cosa cerca eh cerca spesso una barriera profonda no e quindi che cosa può fare beh può fare cerca prodotti si apre questa schermata che poi quella che abbiamo visto anche prima in realtà e eh può mettere una serie di filtri ehm lasciamo stare i filtri legati vedete al mercato eh di quotazione che può essere ROTLX o SEDEX può essere la valuta del sottostante adesso ehm lasciamo stare anche le il nome commerciale no del prodotto facciamo una cosa molto semplice giusto per poi dopo ognuna a casa può ovviamente sporcarsi le mani e e e e sbizzarirsi quindi lasciamo stare anche il discorso scadenza eccetera andiamo su un discorso proprio di prudenza no di e quindi voglio certi voglio individuare subito a colpo d'occhio in un click i certificati che hanno la distanza maggiore dalla barriera poi da lì parto a scartabellare no quindi si va qui vedete alla voce distanza quindi non ho selezionato prima vedete nessun filtro quindi sono tutti e 741 attivi da questo punto di vista eh che cosa faccio vado qui sotto dicevo vado alla voce distanza dalla barriera e seleziono che cosa una distanza maggiore del 50 per cento trovo che cosa 42 certificati e poi me li posso scartabellare tutti ovviamente qui trovo l'aisin sempre il la struttura di fatto perché il nome commerciale rappresenta poi la struttura e trovo tutti i vari sottostanti che eh hanno queste caratteristiche posso ordinarli se voglio per scadenza posso anche filtrare ovviamente eh se voglio un certificato che duri al massimo non so uno o due anni clicco su uno o due anni in automatico vedete mi ha selezionato i certificati che ritengo opportuno non voglio uno o due anni ma mi bastano anche due o tre eccoci qua vedete in un attimo li ho selezionati dopodiché posso andare a vedere adesso giusto per far vedere qualcosa posso andare a lavorare sulla lettera e cercare quelli che hanno una quotazione inferiore quindi che potrebbero essere più interessanti ovviamente bisogna andare a vedere le caratteristiche del sottostante la tendenza dei prezzi la volatilità eh le altri gli altri titoli che compongono il certificato la barriera se non bisogna andare a vedere tutto eh il resto però di fatto vedete che in un paio di clic abbiamo già trovato una lista di soli diciassette certificati che hanno le caratteristiche che volevamo una eh una scadenza compatibile con la nostra ottica temporale e una distanza superiore al cinquanta eh per cento dopodiché non basta non bisogna fare altro che andare a cliccare su ognuno di questi aprirlo e andarne poi no a vedere le caratteristiche che troveremo sia scorrendo il sito che eh andando a eh come si dice lavorare no sul term sheet e sul kid che abbiamo citato tornando al nostro eh prodotto questo dicevo è un prodotto secondo me interessante perché lavora su ehm Alibaba in questo caso ehm ha una caratteristica questo certificato andiamo subito a vederlo vedete il worst off eh di questo di questo prodotto è Alibaba che dista però vedete un trenta per cento dalla barriera quindi un livello al momento eh di tranquillità eh è l'unico titolo vedete che in questo momento eh quota a un livello vedete inferiore a che cosa? Inferiore allo strike iniziale ma superiore alla barriera e invece Amazon e Shopify vedete che entrambi quotano a un livello superiore sia la barriera che alla allo strike quindi in questo momento un solo sottostante sarebbe inferiore alla barriera. Una seconda caratteristica interessante di questo certificato che ovviamente paga una cedola particolarmente generosa vedete un sedici per cento per anno considerando che la cedola è trimestrale quale significa una cedola trimestrale condizionata quindi potenziale del quattro per cento quindi un certificato anche generoso in termini di eh erogazione dei proventi eh la cedola è reddito diverso e quindi può essere utilizzata per recuperare eh minusvalenze essendo una cedola del quattro per cento anche le minusvalenze che vengono recuperate sono importanti quindi da questo punto di vista è senz'altro un certificato utile anche in chiave no di recupero eh minusvalenze le eh prime è un certificato che è stato emesso ehm so quando cerco un'informazione al volo non la trovi ma eh è stato emesso vedete a settembre dell'anno scorso e quindi è già in vita da eh da 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 sei mesi fondamentalmente da più di sei mesi e vedete che infatti le prime due date di rilevazione si sono già verificate e eh in entrambe le occasioni eh tutti e tre i sottostanti erano eh superiori alla barriera e quindi di conseguenza il certificato ha pagato la cedola del quattro per cento qui vedete quaranta euro perché dal momento che il certificato è messo su base mille il quattro per cento di mille sono appunto quaranta euro quindi il possessore di una quota di questo certificato avrebbe incassato quaranta euro a eh dicembre e quaranta euro a marzo eh e quindi il certificato insomma che al momento sta dando soddisfazioni dalla terza data di rilevazione che sarà vedete a giugno di eh quest'anno avremo eh attiva l'opzione autocall che non era attiva invece nelle no e non era attiva nella prima data ma già dalla seconda in realtà era attiva quindi a giugno sarà di nuovamente attiva per tutte le altre date lo resterà attiva dicevo l'opzione autocall per cui avremo i tre scenari tutti e tre sopra lo strike primo scenario secondo sotto lo strike ma tutti sopra la barriera terzo scenario almeno uno sotto la barriera non entriamo nei dettagli perché l'abbiamo già detto più volte se il certificato non viene mai richiamato in anticipo rispetto alla naturale scadenza allora scadenza abbiamo eh no tiriamo una riga si guarda la barriera se tutti e tre sono superiori eh mantiene la protezione paga eh mantiene rimborsa mille paga l'ultima cedola altrimenti si eh pagano la performance negativa del sottostante quindi si prende il sottostante peggiore dei tre e si applica la formula no prezzo finale diviso prezzo iniziale moltiplicato per cento attenzione perché anche in questo caso vedete abbiamo la trigger decrescente vedete che già in occasione della prossima data del quindici giugno vedete è il novantacinque per cento quindi si prendono le quotazioni di strike si moltiplica per zero novantacinque si calcola il nuovo valore dello strike se i tre sottostanti saranno tutti superiori a questo livello di prezzo eh allora il certificato rimborserà in anticipo i 40 euro quota a cavallo vedete di mille mille e cinque per cui quota comunque un livello che in caso di eh richiamo anticipato comunque copre il il dato quindi lo paghiamo mille e cinque ce l'imborsa mille 40 quindi abbiamo comunque 35 monetine di guadagno in ogni caso la 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 fixing eh della trigger no in quell'occasione della data sarebbe 264 euro vada a memoria non vorrei fare una gaffa epica e quindi in ogni caso in questo momento se fosse oggi la derivazione la quotazione di mercato sarebbe comunque inferiore questo è un altro certificato interessante per chi vuole in generale ma in particolare per chi ha minusvalenza da recuperare oppure per chi eh ha una view rialzista sul titolo Alibaba fondamentalmente o comunque una view stazionaria quindi eh che presume che Alibaba Amazon e Shopify restino sui livelli attuali e quindi il certificato possa poi eh pagare le eh cedole eh volete aggiungere qualcosa? Qui stanno arrivando migliaia e migliaia di capire dipende da come si è messo tu con le tempistiche magari se vuoi selezionare alcune domande? Io sì stavo guardando eh Sergio mi dice che il bello del selezionatore di eh molti stanno facendo i complimenti al selezionatore di Leontech tra l'altro eh lo trovano funzionale e dicono comunque diceva Sergio eh Sergio è uno lo conosco personalmente uno che mastica di certificati disse il bello del selezionatore di Leontech è che si può usare la più per cercare certificati che hanno contemporaneamente due o tre sottostanti davvero utili esatto io sono stato molto sintetico prima però il concetto è che se tu metti Eni più eh non so Enel in automatico trovi tutti i certificati che hanno questi due titoli all'interno del paniere quindi di fatto riesce a fare dei confronti con altri certificati buona osservazione da parte di eh di di Sergio. Io direi facciamo una cosa magari andiamo a vedere anche gli altri certificati e poi eh magari se abbiamo ancora due minuti ci concentriamo sulle domande altrimenti magari eh cercheremo una modalità di rispondere alle domande magari eh gli mando una mail nel weekend a ciascuno per per rispondere alla domanda eh dicevo eh un altro certificato che secondo me è eh interessante non so se ho perso il pezzo volevate aggiungere qualcosa eh Anne Marco possiamo magari concentrarci velocemente sugli altri certificati che avevamo selezionato e poi magari vedere qualche domanda perfetto aggiudicato ok allora eh dicevo un altro certificato che secondo me è interessante e lo vediamo in sfondo in questo momento la struttura è sempre quella di prima prodotto capitale condizionatamente protetto sempre una struttura cash collect quindi una cedola eh condizionata periodica in questo caso il certificato che caratteristiche ha beh è costruito vedete su tre titoli quindi è un lost of questi titoli sono eh Enel, Eni e eh Unicredit eh è quotato sul SEDEX vedete qui troviamo la quotazione vedete quota sotto la pari il valore di emissione è mille il valore nominale è mille in questo momento vedete quota 983-985 arrotondando che è minore di mille quindi ci sarebbe in caso di richiamo anticipato un margine di guadagno qui trovate il codice ISIN del eh prodotto eh è un certificato che paga una cedola sempre su base eh trimestrale del due per cento quindi è un certificato con un buon flusso eh cedolare un potenziale vedete due per quattro e otto per cento annuo ehm in questo momento abbiamo un dato eh curioso cioè curioso abbastanza comune rispetto alla selezione che ho fatto prima in linea con gli altri vedete la quotazione sia di Enel che di Eni è superiore al livello dello strike iniziale leggermente superiore di un due e mezzo di un tre per cento ma comunque superiore e ovviamente superiore anche alla barriera di un quaranta per cento il worst off in questo caso lo trovate anche qua in alto come dato sintetico e veloce da visualizzare è unicredit che comunque vedete è inferiore allo strike iniziale ma è comunque superiore alla barriera barriera che dista un trentasei eh per cento la barriera non l'ho detto ma lo specifico è eh come si dice discreta quindi attiva solo a scadenza eh abbiamo anche in questo caso ovviamente delle date periodiche di ehm di 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 rilevamento eh a cui ovviamente si fa riferimento no per il pagamento della cedola attenzione perché le prime tre date di rilevazione non è attiva l'opzione autocall quindi nelle prime tre date che sono giugno settembre e dicembre di quest'anno non è attiva l'autocall non si guarda la trigger e fondamentalmente avremo due scenari tutti i sottostanti sono superiori alla barriera oppure almeno uno è inferiore alla barriera nel primo scenario si paga la cedola del due per cento e si va alla data derivazione successiva nel secondo scenario non viene percepita la cedola che però gode anche in questo caso dell'effetto memoria per cui può essere recuperata in seguito a partire invece dalla quarta data di rilevazione quindi stiamo parlando di marzo del duemila e ventidue a questo punto invece eh si attiva l'opzione autocall per cui gli scenari saranno tre si guarderà se tutti sono superiori allo strike si guarderà secondo scenario se sono tutti superiori alla barriera ma almeno uno inferiore allo strike terzo scenario almeno uno inferiore alla barriera la struttura è sempre quella di eh prima anche in questo caso lo vediamo dal dalla documentazione abbiamo fondamentalmente un ehm come si dice una trigger decrescente eccola qui vedete qui vi dicevo le prime tre date non hanno la funzione eh del della dell'autocall ma invece a partire vedete dal ventiquattro tre duemila e ventidue come vi dicevo quindi da marzo vedete che l'autocall è attiva e del cento per cento poi dicevo vedete la trigger è decrescente quindi abbiamo tutta una serie di date per cui vedete che con cadenza annuale fondamentalmente la trigger diminuisce vedete diminuisce a giugno del duemila e ventidue poi diminuisce eccola qua a giugno del duemila e ventiquattro e via discorrendo fino a scadenza scadenza se non si verifica cioè se non è stato richiamato in anticipo rispetto a naturale scadenza a scadenza non si guarda il livello della barriera come al solito quindi tutti e due sopra capitale protetto ultima cedola del due per cento altrimenti non si paga la performance negativa del sottostante anche questo per chi vuole andare a investire sui big di piazza affari è senz'altro interessante anche in questo caso abbiamo un solo sottostante inferiore allo strike non di molto un 5 per cento quasi un 6 per cento quindi c'è la possibilità che il certificato comunque possa andare a dovesse essere così la situazione ovviamente a richiamo anticipato ovviamente l'autocollo abbiamo detto che scatta fra un anno scatta a marzo del duemila e ventidue quindi c'è tutto il tempo per però in ogni caso il dato saliente sarebbe questo quindi un certificato secondo me che ha assolutamente senso da essere valutato e analizzato un altro certificato che ho selezionato e questo questo è un certificato diciamo così ehm per gli amanti no del del settore automobilistico fondamentalmente eh sono tre big del settore automobilistico in particolare due rappresentano no un un simbolo diciamo così di di bellezza di di lusso anche se vogliamo sono un simbolo che sono Porsche e soprattutto Ferrari la nostra Ferrari e eh il terzo invece Ford che è una eh è il principale esempio no di casa automobilistica americana la struttura è sempre la stessa che abbiamo eh descritto prima nel senso che eh è un expert quindi la struttura è quella del cash call è sempre capitale condizionatamente protetto sempre quotato sul sedex contiene l'opzione quanto per alcuni di questi sottostanti sono quotati in valuta extra quindi l'opzione quanto anestetizza il rischio cambio fondamentalmente quindi il prodotto è euro euro punto qui troviamo il codice Aisin qui troviamo la quotazione in acquisto e in lettera del market maker con le relative quantità vedete sono anche quantità interessanti dal punto di vista sono mercati chiusi però giusto per dare l'idea che effettivamente vedete il market maker è presente e garantisce la liquidità al eh sistema e questo è interessante dicevo perché permette di ehm di lavorare su tre sottostanti automobilistici quindi se qualcuno eh desidera lavorare su questi sottostanti ecco che questo certificato può essere assolutamente eh idoneo è un certificato che ha una scadenza breve vedete ha una scadenza in aprile duemila e ventitré quindi fondamentalmente ha eh due anni di vita eh davanti è un certificato che appena è stato eh emesso perché vedete il fixing iniziale è stato l'otto eh aprile oggi cosa ne abbiamo quindici se non ricordo male quindi è un certificato che è quotato da una settimana quindi è un di recente quotazione fondamentalmente appena nato potremmo così dire dicevamo a scadenza breve che è senz'altro un eh pregio comunque una peculiarità rispetto ai certificati di prima se vi ricordate il primo certificato scadeva nel duemila e venticinque dove è eccoci qua il secondo nel ventisei vado a memoria ma direi di non sbagliarmi no perché l'abbiamo saltato ma era comunque del duemila e ventisei quindi in questo caso vedete abbiamo accorciato sensibilmente i eh tempi eh la barriera è discreta è posta a un sessanta per cento dalla quotazione attuale dei nostri tre sottostanti anche qui troviamo vedete le caratteristiche del prodotto vedete che sono tutti e tre sopra la barriera ma rispetto allo strike solo Ferrari vedete è superiore allo strike iniziale tra l'altro di poco di uno zero e ventisei per cento mentre gli altri due vedete sono leggermente sotto lo strike ma tutti come un campiamente sopra eh barriera eh la cedola non l'ho detto ma lo andiamo a prendere è comunque trimestrale ed è un tre per cento lo di un tre per cento perché vedete qui abbiamo un dodici per cento anno dodici diviso quattro fa appunto tre questo dato ovviamente lo troviamo come al solito sul kid sul prospetto informativo possiamo aprire il kid velocemente andare a prendere il dato eccoci qui vedete che abbiamo la cedola del tre per cento su base trimestrale che è trimestrale vedete lo potete vedere anche dalle date di rilevazione abbiamo luglio ottobre gennaio aprile eccetera ci dicono che il dato ovviamente trimestrale la cedola ha sempre l'effetto memoria in occasione della prima data di rilevazione lo vediamo da qui vedete luglio di quest'anno non è attiva l'opzione autocall quindi tendenzialmente avremo solo due scenari in occasione di questa prima data di rilevazione invece vedete che a partire da ottobre fondamentalmente avremo eh attiva l'opzione autocall con il cento per cento della trigger a partire dalla data successiva vedete quindi siamo a gennaio del 2022 fondamentalmente la trigger vede la struttura resta sempre la stessa però vedete che la trigger diminuisce diventa il 95 per cento quindi diminuisce di un 5 per cento la struttura resta la stessa gli scenari in questa occasione sono sempre tre la trigger vedete che poi diminuisce ancora diventa un 90 e un 85 per cento a scadenza avremo invece sempre i soliti eh due scenari no sopra entrambi la barriera o almeno uno sotto la barriera con tutte le caratteristiche che abbiamo descritto prima quindi anche questo è un certificato secondo me per chi vuole lavorare sul settore eh come si dice automobilistico eh anche del lusso se vogliamo eh interessante da valutare quota attorno alla pari vedete eh mille e uno quindi fondamentalmente quota il valore nominale quindi anche questo secondo me può essere interessante da valutare o anche semplicemente da monitorare molti dei certificati che abbiamo visto un investitore può anche valutare disegnarseli in una watch list e poi andarli magari a comprare in un secondo momento quando magari sui mercati c'è una fase di debolezza no se noi andiamo qui vedete abbiamo la voce watch list e accedendo creando un account possiamo anche registrarci e tenere traccia di una serie di prodotti no quindi tutti quelli che vi ho descritto questa sera o anche nei webinar precedenti sono tutti certificati che io ritengo essere interessanti poi per carità non è che tutti questi certificati vanno bene per ogni investitore dipendono dalla pianificazione finanziaria dall'obiettivo l'ottica temporale il grado di rischio quindi ci sono tante sfumature da valutare però in generale possono essere interessanti eh e quindi di conseguenza possono essere acquistati se è opportuno ovviamente ehm immediatamente ma nulla vieta anche no metterli in watch list e andarli a monitorare giorno per giorno settimana per settimana e magari cercare no di ottimizzare il timing volendo questo è il dato quindi qui faccio una selezione oggi e poi ovviamente ognuno di voi può andare a rielaborarla a proprio piacimento questo però è il dato no segnatevi lì anche che magari oggi non vi convincono ma magari domani il discorso potrebbe cambiare ad esempio certificato con Alibaba dovesse invertire a rialzo Alibaba e gli altri due sottostanti dovessero rimanere con l'attuale impostazione beh senz'altro sarebbe un certificato che avrebbe molto da dire già adesso interessante potrebbe diventare ancora più interessante perché Alibaba smette di essere debole come quotazione l'ultimo certificato che ho selezionato giusto per concludere no questa serata insieme e questo pomeriggio insomma serata pomeriggio aperitivo diciamo così insieme eh è un la struttura è sempre quella che abbiamo appena è descritto in questo caso le caratteristiche salienti del prodotto quali sono che è costruito su tre titoli italiani Tenaris Leonardo e eh intesa eh San Paolo e qui trovate il codice Aisin del prodotto trovate vedete che è quotato che quota a un livello inferiore rispetto al prezzo di emissione è quotato al SEDEX sono tutti sottostanti denominati in euro quindi non c'è problema non contiene quindi l'opzione quanto che sarebbe assolutamente inutile anche in questo caso certificato vedete è quotato da da una settimana quindi è un prodotto di recente eh emissione la scadenza eh è media scade nel duemila e eh ventiquattro e paga una cedola andiamo a prendere eh sempre trimestrale del eh prendiamo questo eh del 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 due per cento quindi paga venti euro perché è calcolato su mille quindi significa un due per quattro otto per cento e potenziale anno la cedola ha l'effetto eh memoria eh vedete le prime due date di rilevazione non è attiva l'opzione autocall per cui a luglio e ottobre avremo solo due scenari tutti e tre sottostanti cioè intesa Leonardo e Tenaris sono superiori alla barriera si incassa la cedola del due per cento si va alla data successiva oppure eh almeno uno inferiore alla barriera non si percepisce alla cedola e si va alla data di rilevazione successiva cedola che come dicevamo eh ha effetto memoria e quindi può essere recuperata in seguito a partire invece vedete da gennaio del duemila e ventidue vedete che attiva l'opzione autocall inizialmente vedete nelle prime due date di rilevazione in cui attiva abbiamo il cento per cento della trigger e poi abbiamo vedete il meccanismo a scendere quindi un novantacinque per cento poi un novanta e eh così via eh è un prodotto anche questo secondo me interessante per chi vuole andare a lavorare su questi eh sottostanti qui sotto trovate no anche qui tutte le caratteristiche del prodotto non mi ricordo se le ho listrate le vediamo comunque velocemente vedete sono tutti sopra alla barriera e eh intesa e tenaris sono anche sopra lo strike iniziale l'unico worst of cioè l'unico certificato che in questo momento non è sopra il fixing iniziale quindi colloca la performance peggiore è sempre positiva ma peggiore è eh Leonardo vedete che dista un due per cento quindi siamo a cavallo più o meno ma leggermente sotto rispetto allo strike iniziale quindi anche in questo caso se qualcuno volesse andare a ehm a lavorare no su un certificato con questi sottostanti ecco questo è un certificato interessante se qualcuno vuole lavorare magari su un solo sottostante ripeto può andare alla voce eh ricerca vedete mette non so tenaris perché magari ha una predilezione per questo titolo ecco che va a visualizzare vedete tutti i titoli che hanno quotato tenaris vuole fare dei confronti ecco che magari prende tenaris e poi ci mette insieme non so Leonardo no come diceva primo Sergio metti il più ci metti Leonardo se ho scritto bene no cosa ho scritto ok è in automatico vedete il sistema ci restituisce questi titoli allora ehm ok io direi che sono già le sette venti non so Anna e eh Pietro se volete aggiungere qualcosa eh beh allora abbiamo un po' sporato con l'orario però d'altronde la la serata era colma di certificati e di notizie eh come ho detto prima ricordo che per tutti gli interessati appunto potete iscrivervi alla nostra newsletter che inviamo settimanalmente con eh le emissioni più recenti potete iscriverci a eh info italy chiocciola leontech.com se avete se avete esatto grazie mille se avete delle delle domande alle quali non abbiamo avuto il tempo di rispondere potete anche telefonarci il numero è un numero italiano e il nostro del nostro ufficio di Milano quindi ehm appunto vi ringraziamo davvero per essere stati con noi siete stati numerosissimi ci fa molto piacere ogni feedback è benvenuto e grazie mille a te Gabriele per aver organizzato questo incontro grazie davvero grazie a tutti ci mancherebbe grazie a te Anna grazie a te Pietro ma soprattutto grazie a tutti quelli che hanno partecipato che sono stati veramente tanti 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 e c'è veramente una vagonata non è un modo di dire c'è proprio letteralmente di eh domande quindi è anche un piacere io rinnovo i saluti vi ricordo che anche il prossimo mese saremo insieme ad Anna Pietro e a Leontech vi arriverà ovviamente come vi è arrivata oggi la mail troverete anche il tutto sul mio sito bellelli.biz o anche ripeto sul mio gruppo chiuso Facebook Capelle Bellelli Trading Investing chiedete l'iscrizione e molto molto volentieri vi accetterò lì posterò tutte le informazioni quindi anche il prossimo webinar potrete partecipare e conoscene data e orario grazie a tutti per l'attenzione io intanto vi auguro una buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti Grazie a tutti